ma comunque sono le 5 del mattino siamo state alle 4 stelle e non fuori grazie quanti prezzi! riprendiamo il momento vi prego è da riprendere allora che stiamo facendo ragazzi per il videodiario? stendendo i banni stendendo i banni ragazzi ragazzi dite ciao ciao ragazzi è una buona notizia fra 12 ore e siamo wow credo ad amarci impazzirai perchè ci basta il tempo ok vabbè allora mettiamoci un po' l'obiettivo che mi pigli troppo di faccia ora non ti prendo di faccia com'è mettere i numeri? bravo allora abbiamo dovuto dedicare con tutti quanti perchè a un certo punto mi sono mischiati tutti e quindi ho fatto l'appello con la scuola numero uno qua, numero due meno oppure ho classificato mi sono state con la signora questa signora ha l'idea con tutti sì una signora che non voleva che una ragazza rimasse per la figlia ho detto tu vivi a Napoli tra l'immunità vabbè a brevia in più i numeri stavo facendo i numeri l'ora insomma mi devi pagare ciaoone e l'ora è pagami ora siamo qui ahahahah e siamo le uniche fuori dalla vila vero diva siamo le prime siamo le vive noi siamo qui vedi numero uno dalle quattro e mezza di stamattina guarda qui tutto per te ho messo tutto a posto per te stronzo e forse cercherai le mie mani solo per un giorno non trappare dai nei guardi non posso sottrirti non posso sottrirti non posso sottrirti mai ma vattene l'hapi hander culo ma vattene l'hapi hander culo BOOM ragazzi attualmente il video di aria raga 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 ci dobbiamo fare una mano abbiamo soldi raga DJ Sour video di aria ciao bellissima are you ready? are you ready for mostso ghost me i just amway is by Ovviamente siamo in prima fila, guardate, abbiamo il microfono proprio davanti, mostra la gente più che è dietro, guarda quante persone, cartellone, leva il braccio, va bene Vabbè, sta scritto tipo, no che sta scritto, vabbè non ci pensare, vabbè non ci pensare, vieni a conoscere la socia, ho già buttato la pasta e poi c'è la foto di mia mamma, vabbè e mia mamma che ha buttato la pasta, un bacio, dite ciao! NEPOLI! RIDO! 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 I'm a fire, I'm a one I want to say So I don't want to touch I'm a leader, I'm a leader The kids are not the best, man The kids are not the best Oh, oh, oh It's dangerous It's dangerous You take me down, it's dangerous Emptiness We lose the road And I hope you're saving yourself Atakuitazo, you know my days were all in M-E-O-O-M-G-G-Wishker Cause you're the one for me When you're left in empty e nero a 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